Dopo tre o quattro giornate di campionato, chi va male è la prima domanda che si fa, non è che si fa come è stata la partita, si dice ma qui siamo, è una domanda che si danno le risposte no a parti precedenti, io devo dire che vivo la mia situazione con la serenità, cerco di, è un anno in più che sono a Cagliari oramai, quindi conosco l'ambiente, le situazioni, non è questione neanche di serenità, cerco di fare il mio lavoro nel miglior modo possibile, credo come lo faccia in questo momento San Nino come lo fanno un po' tutti gli altri allenatori, fa parte ormai, bisogna accettarla ma di cuore, è una cosa sicuramente che non fa, a volte che non è sicuramente la soluzione dei problemi, però è una situazione che si è venuta a creare, mi auguro col tempo che possa leggermente cambiare, a volte è necessario, a volte secondo me cambiare in vari casi può essere stato un errore.